Ben ritrovati! In questo nuovo tutorial vediamo una interessante funzionalità che si è aggiunta in Camera Raw con la nuova versione, il nuovo aggiornamento di Photoshop CC 2014. Una funzionalità che ha a che fare con la gestione dei pennelli. Quindi ho queste due immagini selezionate in Bridge, le apro, CTRL O ed eccole qui, le ho aperte in Camera Raw. Adesso arrivano, ecco, seleziono la mia prima immagine, vado a fare clic sul pennello e andiamo ad esempio a lavorare sugli occhi. Cosa faccio? Posso andare ad esempio, non so, a dare più luminosità, contrasto e magari diamogli anche un colorino un po' più evidente agli occhi del nostro guffetto. Eccolo qui, andiamo a fare un lavoro, ok, di questo genere. Voilà, andiamo a aumentare un po' il contrasto. Ok, allora la cosa interessante è che finalmente i pennelli si possono spostare, quindi vedete che andando col mouse sopra al pin compare il classico segno dello strumento sposta con il quale posso spostare, ad esempio se mi serve andare a riposizionare meglio l'intervento fatto con il pennello. Ma la cosa interessante è quando io ho creato un pennello che funziona bene e lo devo applicare su immagini simili. Quindi io posso, sì, dovrei, sì che posso ricliccare sull'altra immagine e ho il mio pennello di nuovo belle che pronto ad andare, però devo rifare il lavoro. Quindi la cosa interessante sarebbe avere il pennello che va ad applicarsi in automatico. Questa cosa qui la posso fare attraverso il comando sincronizza, però cosa succede? Succede che questo pennello che è qui in questa parte superiore dell'immagine sull'altra immagine andrà a posizionarsi chiaramente nel posto sbagliato. Vedete le immagini sono molto simili, ma con la nuova funzionalità dello sposto appunto abbiamo la possibilità di duplicare il pennello e velocemente trasferirlo anche sull'altra immagine. Quindi cosa faccio? Ho costruito il mio pennello su questa immagine qua, vado a selezionare con il tasto control anche l'altra immagine, chiaramente lo posso fare su tutta una serie di immagini molto simili, gli dico sincronizza, qui ho cancellato tutti i check sulle varie regolazioni, vado a fare un clic qua in basso dove attivo le sincroni soltanto sui pennelli, gli dico ok, ed ecco, adesso vado a cliccare sull'altra immagine, ed ecco il mio pennello che si è duplicato sull'altra immagine. Chiaramente è andato a duplicarsi nella parte speculare all'immagine di partenza, che è quella sbagliata per questa immagine qui, ma non è un problema perché avendo appunto aggiunto la nuova opzione sposta, vado sul pin, faccio clic e posso andare a riposizionarmi in modo molto veloce il pennello sulla seconda immagine dove ho il soggetto che si è leggermente spostato. Stessa cosa ad esempio, non so, facciamolo ancora un attimo al contrario per il becco. Vado ad attivare un nuovo pennello, andiamo ad azzerare un po' tutto quanto, facciamo così, andiamo a rendere questo becco un pochettino più importante. Eccolo qui, facciamo una cosa del genere. Voilà. Quindi ho questo nuovo pennello, attivo la sincronizzazione. Ok, andiamo sulla nostra immagine. Voilà. Qui avrò il pennello degli occhi che mi si è sincronizzato, lo posso spostare, poi ho il pennello del becco che vado a riposizionare a sua volta. Quindi posso attivare su un'immagine diversi pennelli e poi andarli a copiare su immagini simili e con la nuova modalità sposta, velocemente spostarli e andarle a riposizionare con precisione. Ora, il pennello è anche duplicabile nel suo effetto. Quindi posso fare clic sul pennello, tenere premuto il tasto Command, opzione e spostare leggermente il pennello. E voilà. Come vedete, il pennello si è duplicato. Ho due pennelli che lavorano praticamente uno sopra l'altro, quindi ho duplicato l'effetto su questi occhi, utile nel caso che io debba andare a fare semplicemente una piccola correzione su un'area localizzata. Quindi ho due pennelli che lavorano, uno e ho raddoppiato l'effetto e vado semplicemente a modificarne uno dei due. Lo spostamento, come potete vedere, attivo un attimo, eccolo qua, la lente, lo spostamento dei due pennelli è minimo, quindi praticamente vanno a lavorare sulla stessa zona, ma il secondo pennello mi permette di regolare di fino il doppio intervento. Ed è anche interessante perché posso ad esempio annullare tutti i miei interventi, vedere anche un prima e un dopo con un pennello duplicato. Ok? Vi ricordo che se avete domande su questi argomenti potete scrivermi a info-robotti.it e a presto da Daniele Robotti.